O, lista, trevita, stiamo una buona pausa di rinaglio, ci sono nomi a nai. Grazie. 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 E' un'escalde. Sì, è un'escalde. E' un'escalde. E' un'escalde. Diventica, è un'escalde. Il primo fri. Il posto per tecnicato. E' un'escalde. E' un'escalde. E' un'escalde che si è finita. E' un'escalde. E' un'escalde. Non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono. ecco adesso non i non posso lasciare non color ed allora prima cosa non attenzione è che Sì! 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 Noi Sì! Sì! Grazie.